Ben trovati all'appuntamento con dentro il Consiglio il settimanale politico di TVR Tele Italia che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento settimanale abbiamo scelto due temi relativi alla fine del mese di maggio. Uno per quanto riguarda appunto la seduta d'aula, l'altro invece è la presentazione di un libro. Ma andiamo per ordine perché dalla seduta d'aula parliamo della manovra finanziaria alla chiusura del bilancio della sanità in pareggio ma si parla anche di quella che è il bilancio di previsione 2022 e 2024. E poi il mio nome mai più è un libro di memorie del padre e dello zio dell'autore che furono soldati e prigionieri nella seconda guerra mondiale. Il primo tema che affrontiamo in questo nostro appuntamento riguarda la manovra finanziaria della regione toscana necessaria anche a far fronte al disservizio in sanità dovuto all'emergenza pandemica. Proda così in consiglio regionale nel tardo pomeriggio di martedì 31 di maggio. Dopo l'illustrazione complessiva sui tre atti al voto cioè la seconda variazione del bilancio di previsione 2022-2024 gli interventi normativi collegati il documento di economia e finanziaria 2022 da parte del presidente della commissione affari istituzionali ha preso la parola il governatore della regione toscana che ne rileva l'aspetto definito fondamentale pur avvertendo però l'aula di un rischio che lo preoccupa cioè riguarda il finanziamento delle opere pubbliche. Ma ascoltiamo i commenti. Ci sono tanti interventi di spesa in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritario alle scuole materne non statali alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche alle quali sono destinati oltre 370.000 euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema aviario toscano in particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinate alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale ricordiamo i 500.000 euro che vanno al recupero della ex scuola elementare di Bergio La Foscalina a Carrara ma ancora una serie di interventi per il recupero del patrimonio della Chiesa nel comune di Barberino del Mugello fino ad arrivare a 800.000 euro destinate al comune di Aulla per il recupero della sala polifunzionale che è stata profondamente lesa dai danni dell'alluvione del 2011. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la regione toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro a queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva anche se margini di incertezza ci sono ancora di far sì che la regione toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. Quindi una misura importante quella che è stata licenziata dal Consiglio regionale che per la seconda volta dall'inizio di quest'anno va ad arricchire il territorio toscano di una serie di interventi che sono il frutto di necessità di spesa soprattutto di investimento che non erano preventivabili al momento in cui si è adottato il bilancio nel dicembre del 2021. Bel dibattito il Consiglio regionale che afferma il valore di una iniziativa che ci porta con la variazione di bilancio a chiudere in pareggio il bilancio della sanità 2021 avendo avuto la capacità di individuare singoli capitoli particolari manovre risorse che ci consentono di colmare complessivamente alla fine in un anno e mezzo 400 milioni quello che era la preoccupazione di vedere una sanità destinata al commissariamento. Per la Giunta è un grande successo e sotto questo aspetto è importante averlo raggiunto senza dover aumentare le tasse le imposte ma invece contenendo quello che è la capacità di spesa attraverso le risorse del bilancio ordinario della Regione. Naturalmente è una variazione di bilancio più complessiva strategica che dà una risposta a quello che è la necessità di Piombino e conseguentemente la falda che con interventi di modifica porta a 9 milioni e 300 mila euro su quella che è un'esigenza ambientale di quel territorio per far fronte alle dovute bonifiche è un intervento che porta sulla fortezza vecchia di Livorno 3 milioni in modo da consentire una sua ristrutturazione una sua utilizzazione per finalità turistiche culturali fieristiche in modo da farla diventare un polmone di una Livorno che si rigenera attraverso appunto l'uso dell'antica fortezza medicia è una manovra che ci porta a collegare con la strada Sant'Anna di Stazema a Stazema oggi occorreva fare 15 chilometri per scendere giù nella valle risalire a Stazema dal presidio della cultura della memoria al capoluogo invece sono 2 chilometri e 2 milioni e 100 di questa strada ci portano è una manovra che porta a valorizzare la Toscana diffusa e non solo i grandi centri prezzo ai 6 milioni destinati a Gragnola per l'intervento stradale atteso da chissà quanti anni è una manovra che va a far fronte a tutta una serie di interventi dovuti al terremoto penso alla chiesa di Barberino 320 mila euro che destiniamo a quella che è stata il simbolo purtroppo delle distruzioni del terremoto del 2019 e si va a toccare anche quello che è il patrimonio di impianti sportivi con interventi complessivi che toccheranno una trentina di nuovi impianti secondo la graduatoria presentati dai comuni ma resta in tutto questo la finalità di far quadrare i conti della sanità che vengono a essere appunto toccati e devo dire che anche l'opposizione ne ha dato atto è una battaglia che arriva da lontano da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni sono stati 5 mesi anche di trattativa politica la nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse e tenere i conti in equilibrio ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF questo è stato un motivo del nostro agire anche per quanto riguarda il bollo dell'auto c'è una fermezza delle nostre posizioni riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini non certo da aumentarla quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti si potevano trovare le risorse quindi c'è una modifica del DEF un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova il suo culmine in questa approvazione di questa variazione in realtà le variazioni di bilancio sono due una sulla quale abbiamo discusso fino a ieri pomeriggio che era composta di 18 interventi sei dei quali servono a stanziare fondi per i comuni che vanno al voto tra dieci giorni quindi l'abbiamo definito un bilancio elettorale un bilancio che non noi ma il Comitato per le Autonomie Locali stenta a capire con che razio siano stati scelti i comuni per fare gli interventi lo scrivono loro e hanno ragione hanno ragione perché noi leggiamo di 50.000 euro vi faccio degli esempi 50.000 euro dati al comune di Montemignaio che casualmente andrà al voto tra dieci giorni ed è governato dal centro-sinistra per la manutenzione ordinaria delle strade comunali cioè la regione paga le toppe di asfalto che si fanno in campagna elettorale che i sindaci facevano in campagna elettorale per vincere l'elezione 50.000 euro 80.000 euro al comune di Sarteano che casualmente andrà al voto tra dieci giorni ed è governato dal centro-sinistra per rifascimento per manutenzione ordinaria di uno stabile di proprietà comunale quindi questo è un bilancio elettorale fatto di 18 interventi la seconda la seconda variazione elettorale di bilancio arriva ieri in aula presentata dal presidente Gianni che introduce non un intervento due in più o ne modifica uno ne introduce nove in più in una variazione fatta di 18 interventi quindi un terzo della variazione di bilancio arriva ieri nel pieno non rispetto del consiglio regionale non delle opposizioni eppure della maggioranza perché non voglio pensare che la maggioranza conoscesse prima gli eventi presentati dal presidente Gianni arrivano ieri e negli interventi del presidente Gianni scopriamo 300 mila euro per il rifascimento della fortezza vecchia di Livorno benissimo noi siamo a favore abbiamo parlato con i nostri consiglieri comunali di Livorno e lo sosteniamo con l'intervento è un intervento necessario ma chi l'ha deciso? cioè il sindaco di Livorno è l'ultimo che ha chiamato Eugenio Gianni prima che entrasse in aula e quindi ha vinto il bonus di 300 mila euro per la fortezza di Livorno perché la fortezza di Livorno e non il carcere di Grosseto nessuno sa questo perché il consiglio comunale la commissione non ha potuto leggerlo quel bilancio perché è arrivato ieri poi sempre nella manovra Gianni arriva il rinvio dell'impianto Pegaso di Firenze la famosa piscina che la regione toscana doveva regalare avrebbe dovuto regalare alla città di Firenze quest'anno slitta il 2024 perché? perché il sindaco Nardella evidentemente vuole mettere bocca nell'intervento della piscina Pegaso e il governatore Gianni non ha l'autonomia di poter proseguire il suo progetto quindi ci sono tantissime criticità che ancora una volta pongono questa giunta in un ruolo di subalternità da una parte alle forze di maggioranza della regola un consiglio dall'altra il sindaco della città metropolitana Ricalca ormai una forma o un modus operandi che è noto interventi legati a singole esigenze dei territori una come dire una mancanza sostanzialmente di organicità e di interventi di tipo strutturale noi naturalmente il principio per cui gli enti locali vanno sostenuti ci mancherebbe lo condividiamo è chiaro che però gli enti locali vanno sostenuti a tutto tondo e quindi come dire l'intervento singolo in base a chi bussa prima alla porta ecco questo per noi è inaccettabile quindi auspichiamo davvero che questo modo di gestire le variazioni di bilancio e i lavori del consiglio cambi da parte della giunta perché altrimenti in una congiuntura internazionale già molto difficile dove tante aziende e tanti lavoratori ancora sono in una condizione di forte 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 disagio ecco la politica forse deve fare sicuramente uno sforzo in più dalla seduta d'aula ci spostiamo sempre nel palazzo del Pegaso a una presentazione quella di un libro particolare Evandro dell'Amico è autore del libro Il mio nome mai più arriva quindi nel palazzo del Pegaso per essere presentato e contiene questo libro Memorie Familiari Tragiche per riuscire a riflettere anche su quella che è l'assurdità della guerra ma anche amareggiato e affranto da quello che sta peraltro succedendo lo sentirete proprio tra poco nel commento dell'autore nel racconto si parla di quello che è accaduto al padre e allo zio durante il secondo conflitto mondiale entrambi sono stati deportati in particolare lo zio di cui porta il nome è morto poi distenti in un campo lager di Sassonia esorta quindi la società le istituzioni cittadine a non perdere e disperdere la memoria una riflessione in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo consentitemi di ringraziare Evandro Dell'Amico per lavoro importante questo non è il suo primo libro il terzo di una serie di libri che raccontano purtroppo le tragedie di quegli anni che hanno toccato anche la sua famiglia come tante famiglie toscane durante la seconda guerra mondiale le violenze subite le morti purtroppo oggi non lontano da noi la distanza eccetera l'Ucraina e Trieste e molto meno quella eccetera Trieste e la nostra Sicilia si stanno rivivendo scene terribili come quelle purtroppo che abbiamo vissuto tanti anni fa e allora il nostro compito nel momento in cui non ci sono più testimoni diretti di quel tempo è quello di diventare amplificatori di memoria perché quello che è accaduto non accada mai più a noi il compito di ricordare ma non un ricordo stantio fatto perché andava fatto ma un ricordo perché ognuno prenda coscienza della violenza di quel tempo e che purtroppo quelle violenze si stanno perpredando ancora oggi mio padre catturato il 7 febbraio del 1941 in Libia fu poi deportato dagli inglesi in Australia e tornò nel gennaio del 1947 il fratello minore Evandro di cui ho porto il nome invece il 9 settembre del 1943 come militare non aderendo alla continuazione della guerra a fianco di Hitler fu deportato in un lager in Sassonia da lì purtroppo il 13 aprile del 1945 finì la sua vita stroncato dagli stenti patiti in prigionia io ho trovato il suo epistolario che aveva detenuto mia zia dopodiché averlo letto ho riflettuto molto dopo aver molto sofferto se era il caso di divulgarlo o meno e alla fine ha prevalso la volontà di divulgarlo perché da un racconto di vita così tragico si possa trarre motivo di riflessione sul perché non si deve ripetere una tragedia come la guerra il libro e il titolo in questi giorni sono tragicamente smentiti perché il mio nome mai più è proprio anche no in Europa stiamo vivendo un teatro bellico il piano di pace proposto dall'Italia è stato rifiutato quindi io sono sconvolto dalla situazione che stiamo vivendo perché rivivo in queste dinamiche la possibilità che si inneschi un conflitto mondiale nell'azione cattolica di Massacarara Pontremoli abbiamo avuto persone che attraverso l'esperienza associativa hanno avuto un'esperienza di fede che ha permesso loro di vivere con senso anche un'esperienza tragica come quella della prigionia e della guerra e quindi è importante farne memoria dall'altra è un monito rispetto anche ai tempi di oggi in cui pensavamo appunto che la guerra fosse qualcosa di lontano e invece è tragicamente presente per noi per noi intendo comunità cattolica per persone che hanno un'esperienza di fede in questi anni ci siamo impegnati ci siamo anche battuti in realtà per promuovere un'idea e una comunità di pace questa è una parte della storia naturalmente c'è un no alla guerra e a Riano e questa è l'attualità perché nella storia dell'umanità non c'è una guerra che non abbia prodotto lutti e distruzioni né per chi ovviamente è stato sconfitto ma neanche per chi ha vinto perché comunque ha creato e seminato l'odio e disuguaglianze perché le guerre costano e non producono e c'è un monito per non ricascarci per non ricascarci oggi che ci sono tante guerre nel mondo che c'è una guerra in Europa con l'aggressione della Russia dell'Ucraina ma c'è anche un pericolo che bisogna avere presente la guerra oggi sarebbe una guerra nucleare se la guerra mondiale a pezzi come la definisce Papa Francesco diventa una guerra mondiale e stop ci sarebbe una distruzione dell'umanità perché non ci sono armi nucleari tattiche le armi nucleari distruggono il mondo così come lo distrugge il disastro ecologico e con il libro Il mio nome mai più si conclude anche l'appuntamento per questa settimana di Dentro il Consiglio il programma di informazione politica realizzato da TVR e Tele Italia grazie quindi per essere stati con noi appuntamento a fra sette giorni sempre qua Dentro il Consiglio Grazie a tutti